Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargaro, vi do il bentornati sul mio canale per un altro episodio di Airstone E ragazzi, il mazzo di oggi è un mazzo che spero di non beccare Mirror Match Lo ammetto, perché diventerebbero delle partite troppo, troppo, troppo lunghe Immaginate già cosa sto parlando, vero? Control Warrior! Bene sì, perché partite troppo lunghe? Perché se se beccate Mirror Match, ve li trovate a fare entrambi a fine partita Archivist Eliana in combo con YouTube Remastered E la partita diventa infinita, quindi speriamo di non beccarlo Comunque, Control Warrior ragazzi, come funziona? Come tutti i Control Warrior? Semplice Abbiamo la cosa positiva che contro altri Control che non giocano in Lisiana andiamo a vincere Perché noi possiamo andare avanti per altri 20 turni senza andare in fatigue Il che cambia totalmente il tipo di gioco contro gli altri Control Quindi come ho detto prima ragazzi, il segno della croce, speriamo di non beccare nessun Mirror Match Non c'è tanto a dire sul mazzo, perché comunque Control Warrior lo conosciamo già da anni ormai Quindi, Control Warrior Preghiamo non in Mirror Match, quindi let's go Nooo Oh no, no, Mirror Match no Ho male al cuore a vedere Mirror Match ragazzi, sono una partita lunghissima Non ce la posso fare Ricordate che bisogna sempre chiudere Facebook Prima di registrare Che ansia Bene ragazzi, come vi stavo dicendo, questa qua Sarà un'unica partita Non ce ne saranno altre Perché durerà 20 minuti, se non di più Lo possiamo far andare in overdraw Che non mi dispiace per niente come cosa E gli possiamo far scartare una carta buona Questo non lo uso, quello che voglio tenere come Weapon Removal Vediamo se scarta tipo Se scarta Elisiana abbiamo vinto la partita Speravo in meglio Però se scartava tipo Elisiana oppure lì come si chiama Dottor Boom era Tu, tu, sei un bastardo Tu Brawl Scendiamolo di vita Mi pentirò di aver usato quell'ex Lo so già Poi almeno abbiamo Dottor Boom e Jims già in mano Che è una cosa positiva Boom, 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 boom Il suo Dynomatic è funzionato, il mio 4, 5, life steal Che quando prende danno mi dà 2 di armor Non male Ovviamente il sogno finisce Se ha Come si chiama Shield block più Basta Vabbè Accettabile Sapete cosa vi dico C'è tempo ancora per Dottor Boom Facciamogli danno Per giunta io in questo momento Sono solo in casa Perché mi essono in vacanza Su In campagna, no? Ogni tanto arrivano rumori da sopra Penso che sono in casa mia, no? Quindi sono infarti ogni volta Ma seriamente infarti ogni volta E qua mi pare un turno da Dottor Boom Anch'io Oh boy The useless one Ecco il shield block C'è il Shield slam Lì Come cazzo si chiama? Shield slam Speravo che lasse un altro Colite Dopo gli facevo Dynomatic sopra Che era una meraviglia Not what I wanted Quante carte ho in mano? 8 vado a 9 Quindi posso fare questo Prossimo turno Buono 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 Bisogna solamente Stratinti e non millare Archivista Elisiana Se no la partita è ben che finita Ce l'abbiamo in mano Insieme a Brewmaster Quindi Hey Light Defuses Che palle Gioco anche io Elisiana Quindi qualcosa Gli può entrare con Può tornare utile Il Dynomatic Quindi devo giocare qualcosa Devo giocare qualcosa Warpath Mi è rimasto soltanto uno Non lo voglio buttare via Ora Mi sa che entri te Picchi Giocata tristissima la mia Però Di certo non mi vado a buttare via Un Devastator Quello è poco ma sicuro Crederino Bomberino Qu Yong Qu 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 Hmm ok fortunatamente ho due quattro mani in mano quindi posso bene o male giocarmelo però è una partita infinita questa e weapon project mi sento depresso ragazzi c'è il mazzo è bello però questi mirror match veramente sono la morte la mega devastator cioè beryllium nullifier può avere il suo perché anche se tu mi piaci di più in questo momento che ti posso giocare e non mi devo sprecare niente more armor ok anche il warp hat l'ha usato qua ragazzi bisogna utilizzare la postazione alla sgara sei un idiota tu devi fare hero power hai perso un danno face mia una partita interessante ragazzi perché mirror match perché mirror match perché mirror match ah un altro brawl lo sto outclassando di armor quello è poco ma sicuro però appunto qui non gioca niente quindi non riesco a fare niente interessante oddio si è pescolato da enomatic ragazzo cosa hai fatto come ti è andata bene voglio da enomatic che gli vado a dare che gli vado a dare tre botte dentro a questo e lo faccio andare in overdraw anche se suppongo che visto che ha giocato a sta carta qua magari elisiana ce l'ha già in mano quindi non gliela posso far scartare neanche picchia prima se mettiamo carta a casa dai no matic dai no matic tu sei un pazzo scatenato ti sei un pazzo scatare Che palle è Il tuo popolo è farlo andare in overdraw Elisiana Brawl Quella è grossa Attenzione, Milicia Commander tornerà utile finalmente La prima volta che mi arriva sto hero power a me Esiste allora Interessante Ah madonna quant'arma l'ha fatto I'm almost out of cards Delivery drone Che palle ragazzi Ah faccia Diciamo che questo è stato fastidioso solo perché è rimasto in vita lui Bulldozer mi miga arma molto di più Grosso al punto giusto Bene siamo entrambi senza carte Ora andiamo di Elisiana Attenzione Ma Omega Assembly Ci sta Quale è che ce l'ha attaccato a cosa fare là Fa troppo danno prendo però Così però Scope mi fa danno Ok Mi puoi dare delivery drone adesso però Che palle Ah c'ho un McToon L'ho notato adesso Destruction Tu mi piace parecchio Ok Ok per se Tu non vado di Elisiana Più Biomaster Ho un paio di ciccioni in mano Da affrontare Quello che vorrebbe giocare lui A meno che lui Non giochi Elisiana Ma non credo Mi pare una cazzata E infatti E la partita andò avanti Ora capisco perché i tornei l'hanno bannata Elisiana Effettivamente delle partite così in torneo Beh sono infattibili Pensate ancora prima Che nelle partite amichevoli Non c'era il Come si chiama Mi viene in mente il nome ragazzi La corda Porca miseria Quello era il panico totale Ok dai Ok ma che è sta roba aspetta che può essere buono vabbè rush a priori ok che la partita vada avanti eh lui però è andata molto meglio credo reno secondo me rule despair destruction delivery drone mi sta andando sopra in armor lui nel mazzo lui c'è un altro di sefari qua che l'ha discoverato giustamente the boom river io invece attenzione delle carte bruse c'è anche lui cilsen mi pare onesto è scato di entrambi berserker non male cellulina Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Come gioco questo tizio! C'è un altro Grom, questo è proprio che mi spaventa parecchio. Sparcio dimensionale. Sì. Sì. Che partita interessante! È un problema quello che ha discoverato con quella carta di merda! Leggendaria gogocia sto tizio! Che palle! Sì. 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 Sono stato troppo avido per quanto riguarda il Dimensional Ripper, non devo aver dovuto metterlo. Anche se non mi ricordo per niente cosa mi aveva dato in combinazione con quella. Che palle! Sì. 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 Ha finito i Grommash e ha finito i The Boom River. Caro Marcus. Ho giunto la Pension che sta aperta qua per via dello stress del Mirror Match che è infinito. Avrò fatto 17.000 Mistake. Ancora? Ma basta. BASTA! 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 What is the place? No, tu sei tanto bello, ora. Mega, tu un po' 10-10 che picchia come un disgraziato. Ho gli incubi! Ho veramente gli incubi! C'è ancora Grommash nel mazzo, c'è ancora un altro. È assurda come cosa. Mi hanno calato i 4 di Grommash, zio barabino. Devo sperare che faccia delle cappellate assurde come unica cosa. Anche se io penso cosa farà qua, lui giocherà a Grommash. Oddio, un'altra di quelle! Ok. Ricordiamoci che è un altro Grommash in mano. Ok. Attenzione, un altro Grommash in arrivo. Bisogna dire anche che leggendario gli ha dato. Sarebbe comico se con la pignata gli avesse dato. Wait no longer. Taste my steel. Marutu, cazzo. Ho capito. Vediamo cosa mi dai. Con delivery drone. Tu fai più danno, però. Giustamente quello che va a counterare perfetto la mia roba. Comunque, pazzesco. Roba bella, ti prego, roba bella. Tu vai bene. Oh, I love that view. E qua devo sperare solamente che con Dimension Ripper prenda tipo doppio Moshog. Ora, live. Che giustamente a charge. Good play. Questo è troppo bello per non farlo. Ok. Uh, delivery drone. Ottimo. Sì, 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 sì. Va bene. Gioco pure quella carta. Ok, dobbiamo sperare che lui abbia carte più schifose delle mie adesso. Insomma, vedendo quello che gli ha tirato fuori prima, difficile da pensarlo. Oh, sì. Sì. Tu es... Bueno. Bella l'Armol, però devo cominciare per forza a giocare la mia roba cecciona. Finché ho i scagnozzi nel mazzo. Brawl. Of course. Despair. Destruction. Commence annihilation. Va bene. Quello è un problema, ragazzi. Quello è molto un problema. Porca Eva, cosa gli ha tirato fuori? Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Oddio! Che cazzo? No, loro no! M'ero scordato che esisteva sta carta. Pesta imbrogliona! Ci manca solo catalanici in mano. Bafang il neos! Proprio 14 precisi sono. Non va in overkill, per fortuna. You may attack again. Mi piace come cosa. Quindi. prendo un po' di danno. Facciamo che non lo prenda un po' lì il danno, eh. Pam, pam. Palle. Aaaaaahhh. Aaaaaahhh. Ok. Pura che di lui possa entrare in un altro 2-1, porca troia Però com'è la bingo saga con tutte leggendarie? Devo sperare che sia leggendaria di merda The fury of the star Ok, meno male Despair, destruction Commence annihilation Cugger delivery drone, sì, grazie Quante carte, la prossima turno è 10 Quante carte, la prossima 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 Quante carte Quante carte, la prossima Quante carte, la prossima Quante carte, la prossima Raga, avete visto anche voi Io ci vediamo domani per un altro video Ciao, ciao Ciao